Benvenuto e benvenuta in questo nuovo video del laboratorio di Excel per Tutti. Mi chiamo Damiano Causale e in questo video ti mostrerò come fare il calcolo delle ore di lavoro in Excel utilizzando la funzione SE e la funzione RESTO. Ma partiamo dai nostri dati presenti all'interno del nostro foglio di lavoro. Abbiamo nella prima colonna il giorno, nella seconda colonna l'ora d'inizio, poi l'ora di fine e andiamo a calcolare le ore lavorate. Vediamo innanzitutto quella che è la prima domanda che ci viene posta. La domanda ci chiede di inserire nella cella E6 una formula o una funzione per il calcolo delle ore lavorate e stendere poi la formula o la funzione alle celle in basso. Dunque ci posizioniamo a partire dalla cella E6 e proviamo a inserire una semplice formula. Proviamo a inserire per esempio la differenza tra le ore di fine, dunque la cella D6 meno la cella C6. Diamo l'invio, andiamo ad estendere e il risultato sarà il seguente. Come possiamo notare all'interno della cella E8 ci compaiono tanti cancelletti, questo perché le date e le ore negative vengono visualizzate con i cancelletti. Pertanto una formula non è sufficiente per calcolare le ore lavorate. Dobbiamo ricorrere, e come prima soluzione, alla funzione SE. Dunque andiamo a posizionarci, andiamo innanzitutto a cancellare quello che sono le formule inserite, ci posizioniamo nella cella E6 e mettiamo l'uguale. Pertanto digitiamo SE, aperta parentesi, richiamiamo l'fdx per inserire la funzione, il test sarà se la cella D6 è maggiore della cella C6. Se questo è vero, andremo a fare la differenza tra la cella D6 meno la cella C6. Nel caso contrario dovremo inserire 1 meno il totale tra C6 più D6. Benissimo. Diamo l'ok, estendiamo la formula verso il basso e notiamo che stavolta il calcolo viene effettuato in modo corretto. È importante sottolineare che le ore in Excel vengono trattate con un numero che va da 0 a 1. Ok, ora la prima domanda l'abbiamo risposta, ora vediamo quella che è la seconda domanda che ci viene proposta. Inserire nella cella F6 una formula per il calcolo delle ore di lavoro di straordinario, tenendo conto delle ore di lavoro ordinario contenute nella cella I5, estendere successivamente la formula o la funzione alle celle in basso. Dunque, per calcolare le ore di straordinario dobbiamo semplicemente fare un'operazione, una differenza, una sottrazione. Pertanto andiamo a fare un clic sulla cella I6 meno le ore di lavoro ordinario presenti nella cella I5. Dobbiamo ricordarci di aggiungere il simbolo del dollaro. Premiamo pertanto il tasto funzione F4 e questo ci aggiunge il simbolo del dollaro. Ora possiamo estendere le formule e ottenere così il calcolo delle ore di straordinario. Vediamo quella che è la soluzione. Dunque, abbiamo utilizzato per il calcolo delle ore lavorate la funzione SE, utilizzando appunto come test di 6 maggiore di C6. Nel caso questo è vero, dunque se abbiamo un'ora di fine maggiore di un'ora di inizio, allora dobbiamo semplicemente fare la differenza. In caso contrario, aggiungere, fare la sottrazione tra 1 meno C6 più D6. Poi, per il calcolo delle ore di straordinario, la sottrazione tra le ore lavorate meno le ore di lavoro ordinario presenti nella cella I5. Questa è la prima soluzione. Passiamo ora alla seconda soluzione. Andremo a utilizzare stavolta la funzione RESTO. Dunque, digitiamo la funzione RESTO e andiamo semplicemente a utilizzare il dividendo come sottrazione tra D6 meno C6. Il divisore sarà 1. Diamo appunto l'invio, chiudiamo la panese e diamo l'invio. Ecco il calcolo delle ore lavorate. Estendiamo e tutto è corretto per le ore di lavoro straordinario. Andiamo ovviamente a fare la differenza come visto in precedenza. E6 meno I5 col dollaro. Estendiamo in basso, ottenendo così il risultato corretto. Vediamo rapidamente la soluzione. L'unica differenza sta nell'utilizzo della funzione RESTO che ci ha permesso di calcolare appunto le ore lavorate. rispetto alla soluzione utilizzata con la funzione RESTO è molto più rapida da utilizzare. Bene, spero che questo video ti sia stato utile. Se non ti sei ancora iscritto iscriviti per rimanere aggiornato. E ti aspetto al prossimo video. Grazie. Grazie a tutti.